Visite guidate, sfilate, ballo in abito d'epoca, intrattenimento musicale e cucina tradizionale. L'Austria torna a Trieste con la quinta edizione del Kaiserfest in programma fino al 1 novembre. E all'inaugurazione in Piazza Ponte Rosso non poteva mancare il cantiere per la realizzazione del tallero, la statua vincitrice del concorso di idee in omaggio a Maria Teresa. Promossa da Alta Marea Eventi insieme al Comune e Associazione Trieste 800 APS, la manifestazione vuole celebrare il forte legame della nostra città con l'Austria. La manifestazione rievoca i bei tempi quando Trieste era sotto l'Austria, cioè circa un secolo fa. E' una manifestazione, come è stato detto, che era arrivata alla quinta edizione. E' importante perché noi cerchiamo sempre di, in questi dieci giorni di manifestazione, di rivivere attraverso visite guidate, percorsi a tema e conferenze, quello che è stato il bel periodo di Trieste. Abbiamo iniziato oggi le dieci e sul sito trovate tutto il calendario delle manifestazioni che noi faremo. La manifestazione proseguirà martedì 25 ottobre alle 17 con una delle tante visite guidate promosse per l'occasione, in questo caso all'ex lavatoio di San Giacomo. Voglio ricordare che concluderemo il primo novembre con il meraviglioso baglio storico che lo faremo qua proprio in piazza Monterosso perché abbiamo visto che sia per i concittadini che per i turisti è un appuntamento molto atteso di anno in anno. Grazie. Grazie. Grazie.